Personalmente sono molto emozionato di vedere quale sarà la cornice nel nostro pubblico perché credo che sia assolutamente, di sicuro daremo tutto, tutto quello che abbiamo in corpo e poi vedremo. Indubbiamente i ragazzi erano molto contenti, addirittura qualcuno ha espresso anche che è bello tornare a casa, ma credo che questo sia stato assolutamente condivisibile e non mi ha sorpreso di fatto perché effettivamente appena entri dentro da avversario me lo ricordo già importante, un campo dove non era facile perché avevi la vicinanza del pubblico e quindi si sentiva la spinta e il calore. Ad oggi che è anche ulteriormente migliorato perché ha questa tribuna che sembra veramente un muro imponente, già ci si può anche immaginare quando sarà definitivamente coperta, credo che sia veramente, stiano facendo perché non è ancora finito, ma per ciò che hanno già fatto abbiamo fatto veramente un gran lavoro. All'interno poi, insomma, molto bella la disposizione degli spazi, molto molto accattivante da questo punto di vista. La Serie A ormai l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo ancora incontrato tutte le squadre e io credo che nelle ultime due pareti e soprattutto la squadra abbia dimostrato che si sta adattando velocemente. Non avevo dubbi, nel senso che quando io leggo che il Napoli è sotto stress io sorrido personalmente perché si tratta di una grandissima squadra che ha perso le ultime tre partite quindi questo vuol dire che in Serie A può capitare a chiunque, non solo a noi di perdere con facilità. Da questo punto di vista io credo che per noi sia veramente un banco di prova bellissimo e che ci possa portare oltre alla consapevolezza della difficoltà di incontrare una grande squadra ma anche quella motivazione per cui non c'è bisogno di preparare troppo questa partita dal punto di vista motivazionale. Quello che ci piace particolarmente è che questo grande evento accada per la prima volta quest'anno davanti al nostro pubblico, questa è una cosa che ci fa molto molto piacere. Da chiunque, il Napoli è una squadra che gioca bene, gioca in velocità, gioca a grande intensità e per cui secondo me è quasi scontato dire e forse anche inutile che dovremmo essere praticamente perfetti e noi cercheremo di fare quello, tutto lì. Ma noi come sempre abbiamo visto gli altri per vedere come possiamo esprimerci noi. E' chiaro che guardando il Napoli e studiando il Napoli ti rendi conto che la qualità dei giocatori è elevatissima, sia negli smarcamenti, nei tempi degli smarcamenti, nella capacità di giocare palla, nel palleggio, nella capacità di attaccarti la linea. Insomma, è una grandissima squadra, ma questo non vuol dire. Noi per 86 minuti stavamo vincendo a Sassuolo, che è una squadra che è terza in classifica. Se sul campo avrebbe conquistato i punti per raggiungere quella posizione, nessuno avrebbe detto che ce la potessimo fare. E effettivamente alla fine gli abbiamo anche dato ragione, ma da questo punto di vista io ho visto una squadra assolutamente conscia del fatto che per come stiamo occupando il campo adesso, per come stiamo giocando, questo è il miglior modo per poter mantenere equilibrio nelle due fasi. Il Napoli di fatto ha incontrato, non ho solo guardato la parità con la Roma, perché chiaramente la Roma è una squadra che può anteporsi al Napoli anche per la qualità individuale dei suoi giocatori e può permettersi tranquillamente di fare scelte molto pragmatiche, quindi accettare sia l'inferiorità numerica sia la parità numerica. Noi dovremmo essere in grado di farlo quando come compattezza di squadra e come sviluppo del gioco non saremo in grado di poter sempre dare magari una copertura in più. E quindi da quel punto di vista il gioco del Napoli è tanto bello quanto, ripeto, come quello del Sassuolo, non solo efficace ma anche leggibile. La difficoltà sta nel fatto che nonostante sia leggibile ci sono, nell'interpretazione dei giocatori, una qualità importante, assoluta. Ma io sono convinto che dal punto di vista del rapportarsi a questa squadra sia assolutamente importante mantenere la compattezza delle ultime due partite, non disdegnare di poter giocare quando ce lo permetteranno e interpretare la partita a seconda delle altezze di campo. Ci saranno dei momenti in cui probabilmente non molti, riusciremo a stare molto alti nel loro metà campo, dei momenti in cui staremo nella nostra metà campo perché il loro palleggio effettivamente ti obbliga a fare questo. Non cambia, cambia l'interpretazione della squadra come squadra e quindi la capacità di poter o ripartire con movimenti ragionati, quindi consolidati, che stiamo cercando di consolidare ancora di più, oppure cercare di lavorare su ripartenze brevi quando le attaccheremo noi altri. Può succedere tutto nel calcio, però io mi auguro che ci sia grande voglia di fare. Perché è l'unico modo secondo me che abbiamo per poter dimostrare la nostra identità, il nostro entusiasmo e la voglia di poter competere e quindi cercare di vincere con tutti. Non stiamo ancora riuscendo a raccogliere a pieno tutto ciò che facciamo, però è anche vero che soprattutto nelle ultime tre partite io credo ci sia stata la consapevolezza che noi possiamo essere veramente pericolosi e possiamo rendere la vita difficile a tutti. Il Crotone non ha vinto molto, non è ancora vinto, però secondo me non è stato messo sotto come una classica neopromossa. Noi dobbiamo solo trovare quel tipo di equilibrio, soprattutto in momenti chiave dove la voglia di raggiungere la prima vittoria è elevatissima, vedi Sassuolo, non subire dei contraccolpi anche se tu subisci magari il pareggio. Questo è importante che noi ce ne rendiamo conto perché all'atto pratico poi comunque in termini di numeri tu devi fare dieci vittori e nove pareggi, quindi anche il punto diventa fondamentale per poter proseguire il tuo cammino. Io credo che Cordaz sia uno dei nostri uomini di più personalità e responsabilità. Personalmente a me ha colpito moltissimo, io non immaginavo che avesse questo tipo di personalità, questo attaccamento all'ambiente, questa bramosia proprio di sentire costantemente il disagio se non raggiunge quello che vuole. Questo è il tipo di giocatore che si sposa bene con il mio modo di pensare. Credo che i suoi errori non siano errori suoi ma siano abilità degli avversari perché l'anno scorso non incontrava questi tipi di avversari e certi tipi di tiri a certe velocità non gli arrivavano. Credo che un giocatore come lui che è costantemente tenuto sotto pressione perché ovviamente tra palle inattive e gioco dinamico il nostro portiere è spesso sollecitato e lui più di una volta ci ha messo una pezza e quindi vuol dire che le qualità per poter giocare in questa categoria ce le ha. in alcune situazioni non è forse stato neanche aiutato perché io mi ricordo soprattutto i gol subiti con il con il Cagliari e con lo stesso Sassuolo due dei quattro gol sono stati due direzioni quindi dobbiamo fare tutti meglio per poter fare arrivare meno al tiro per poter evitare magari e mettere lui nelle condizioni di poter fare magari quel tipo di parate che ha fatto il primo tempo dove solo lui ci può dare una mano e ce l'aveva data.